La ringrazio Presidente, mi auguro che su questo ordine del giorno ci possa essere un giudizio clemente da parte del Governo, è un ordine del giorno di sostanza, cioè di quadro, diciamo così, non è un ordine del giorno puntuale che interviene su qualche contesto territoriale specifico e in particolare si tratta di cercare di individuare da parte del Governo, è uno stimolo quello che Fratelli d'Italia offre al Governo, gli strumenti necessari e indispensabili per rimettere in moto in maniera virtuosa e rispettosa dell'ambiente la leva del comparto edilizio che è particolarmente importante e interessante in epoca di globalizzazione perché è un comparto che prevede che il lavoro che viene sviluppato ricada in termini di capacità produttiva e di ricchezza sociale sul territorio italiano in quanto tale, non c'è la possibilità che si vadano a vanificare sforzi che qualche approfittatore, qualche grande finanziaria, qualche speculatore possa trasferire risorse a destra e a manca, quel che si realizza qui si fa e qui resta. Ora di che cosa parliamo in particolare? Noi abbiamo una legislazione dal punto di vista urbanistico petusta per molti aspetti che sarebbe lungo stare qui ad argomentare, ma in modo particolare quello che non funziona è che in una terra splendida e straordinaria che tale viene giudicata dall'intero pianeta non si riesca a fare un'azione di ripulitura, di restauro, di demolizione e ricostruzione, di sostituzione edilizia o, come preferisce, una determinata vulgata di rigenerazione urbana in maniera efficace. Quindi il Governo attraverso il decreto semplificazioni ha citato in alcuni passaggi, articoli e commi, la tutela dei contesti, diciamo così, soprattutto nelle grandi aree urbane più delicati e noi assolutamente siamo d'accordo sul fatto che vadano preservati i centri storici, le cosiddette zone A nella trasformazione del territorio e cioè che non vengano di fatto sfigurati questi contesti che nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli ci sono stati trasferiti quasi indenni dalla speculazione. Quindi lì è normale, è giusto che si operi attraverso una vincolistica rigorosa perché sia lo Stato, cioè il pubblico, attraverso gli strumenti ordinatori dei comuni e delle regioni, ma sia i privati attraverso gli investimenti debbono collaborare per intervenire nelle zone degradate perché gli strumenti di rigenerazione urbana e di sostituzione di delizia devono essere collocati dove il territorio è invivibile, dove la qualità della vita è al di sotto dei minimi standard, delle aspettative dei cittadini, dove il degrado galoppa. Quindi noi dobbiamo sburocratizzare, semplificare le procedure e, ove possibile, collocare degli investimenti per fare su scala sistematica, seriale, l'azione di restauro, di demolizione, di ricostruzione e quindi di delocalizzazione delle cubature per, che ne so, liberare i complessi monumentari, le aree biologiche, le aree ambientalmente riconoscibili come patrimonio dell'umanità, le coste, non per fare un'azione giacobbina e quindi anche in quel qualche aspetto meschina di colpevolizzazione di comunque realizzato quello che di fatto il pubblico ha consentito che si realizzasse, ma per liberare le coste, valorizzare tutti i siti che ho citato, quindi non soltanto quelli naturalistici e ricollocare le cubature dove gli strumenti urbanistici prevedono che possano essere collocate. Un grande patto tra pubblico e privato per rimettere in moto l'economia del comparto di inizio attraverso un gigantesco piano di ristrutturazione e riqualificazione del territorio nazionale. Io spero, sono stato nella stesura e concludo di questo ordine del giorno, il più possibile gentile per non indispettire il Governo, perché l'obiettivo non è quello di fare propaganda, l'obiettivo per quello che mi riguarda è quello di salvare in parte il territorio italiano e le sue bellezze e per rimettere in moto l'economia che per tanti aspetti è comunque legata a questo comparto che indebitamente, impropriamente, ingiustamente spesso viene colpevolizzato solo perché non si esce ad arginare la speculazione edilizia e a indirizzare questo settore dall'espansione alla riqualificazione, come è necessario e indispensabile che sia.